ciao a tutti ragazzi sono dentro Declaton oggi mi hanno riconsegnato la ruota vedete però mi è successo un grave danno ieri sulla ciclabile ho strappato il cambio si è spezzata a metà come vediamo se me lo cambiano vediamo se è tutto gratis sono di nuovo qua a Decaton sette camini perché mi hanno telefonato dicendomi che la mia bici era pronta andiamo a vedere se è pronta ma soprattutto quanto mi costa qua la mia bici me l'hanno data eccola è pronta questa è la ruota che hanno cambiato la settimana scorsa vedete c'è la camera d'aria e il copertone nuovo nuovo questo è il copertone mio l'hanno montato ecco che mi hanno sostituito sostituito il cambio nuovo 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 sapete quanto mi è costato tutto questo 0 ancora non ci credete c'è qualcuno che mi ha detto che i componenti sono scrausi qualcuno ha detto che l'assemblaggio non è buono io so soltanto che ho pagato 0 euro non ci credete venite a vedere voi stessi mi sono stancato di dirlo sempre in continuazione per il resto come al solito iscrivetevi al canale è gratis ciao a tutti e al prossimo video